Io sono arrivato in 500 al Manhattan Bridge e Manhattan Café con delle amiche che si chiamano? Susanna, Fortuna, Susanna! Lui è il titolare Antonio, ma siamo pronti per stappare una bottiglia offerta da chi? Da Antonio! Dal Manhattan Bridge, ma com'è questo posto, bello? Bellissimo! Stupendo! Quindi lo consigliate alle persone che ci guardano la casa da frequentare? Certamente! Dove si trova questo posto? Siamo a Castello di Cisterna, di Milano Pomigliano d'Arco Guarda come sfinta, guarda che c'è! Allora, auguri? Auguri, auguri al Maratani! Auguri? Dove è Antonio? Vieni qua! Vai! Antonio scappa, ora! Questa sera vi porto a Manhattan, ma non bisogna fare molti chilometri, vero Antonio? Ci troviamo? In Castello di Cisterna, Napoli, provincia di Napoli, abbiamo creato il Manhattan Café, cioè una struttura nuova, sempre all'interno della stessa struttura e diamo un altro servizio in più ai clienti Soprattutto il caffè poi, e non solo? E non solo, dolci, semi freddi, birre aperitivi e il tutto Per quelli che sono amanti naturalmente del bar, qui non vi fate mancare assolutamente nulla E non si trova a Manhattan, ma? Ah, Castello di Cisterna Facilissimo qui da raggiungere Ma questa sera hai organizzato qualcosa di bello Sì, abbiamo organizzato una manifestazione già da stamattina, un pizza festa Abbiamo chiamato tanti pizzaioli della zona e hanno fatto una competizione con dei giudici e il tutto Abbiamo fatto delle iscrizioni, non abbiamo preso i soldi, ma abbiamo devoluto tutto al Santo Bono, cioè alle camere operatorie per il Santo Bono Avete nel vostro piccolo dato un contributo importante Assolutamente, visto perché sono sposato, ho pure tre figli, ho pensato di fare una cosa positiva per tutti i bambini Bravo, continuate a guardare le immagini e poi torneremo qui, esattamente dove? In Castello di Cisterna, al Manhattan Bridge Cafè No da quelle parti che ci vogliono molti, ma qui vicino Napoli, a tra poco torniamo Il tuo nome? Maria È un posto bello questo, auguri e complimenti Sì, grazie Perché bisogna venire qui al Manhattan Bridge o al Manhattan Cafè? Beh, perché si può accedere un po' a tutti i servizi che ho freddo Sì, adeguati un po' a tutta l'età, ai bambini Adeguati a tutte le guardi me? Dove si trova il Manhattan Bridge o il Manhattan Cafè? La Salò di Cisterna Venite qua, ma aspettiamo Ok, venite, vi aspettiamo Sì, grazie Manhattan Bridge, Manhattan Cafè, due al prezzo di uno Sì, assolutamente In questa struttura diamo molti servizi Di cui ludoteca, pizzeria, paninoteca, hamburgeria, ristorante, caffè Un po' tutto Quello che la gente richiede e vuole, no? Ludoteca, questo è molto importante Quindi possono mangiare tranquillamente e i bambini si diversano Sì, assolutamente Mentre i genitori mangiano, i bambini tranquillamente sono sorvegliati dai nostri animatori nel parco giochi di fronte a loro Quindi, mi raccomando, c'è veramente di tutto Vogliamo anche ricordare pagina Facebook e contatti? Ovviamente qualcuno volesse venire a trovarvi? Assolutamente, siamo sulla pagina Facebook Manhattan Bridge e pure Instagram Social, attraverso i quali è possibile avere informazioni? Sì, sì, assolutamente Siamo sulla pagina e pubblicitiamo tutti i nostri eventi, tutte le nostre serate che facciamo Avete capito bene allora, Manhattan Bridge, Manhattan Cafè, vicino Napoli, esattamente dove? Castello di Cisterna, via Cosimo Miccoli numero 1 Chiedete di lui, mi raccomando, che lui, come sa lui le cose non le sa nessuno Lui è il cicerone di questo posto e vi farà vedere tante cose belle Creato da me nei minimi particolari per far divertire sia i genitori che i bambini nello stesso momento Allora, non voto Antonio ma chiedi Antonio Sì, assolutamente Un saluto A tutti gli amici di Weekend Dance Sì, assolutamente